Il TTC, Toronto Transit Commission, è il più veloce e sicuro mezzo di trasporto a Toronto, ma alla metropolitana può non servire solo per spostarsi, così deve aver pensato Sharon Switzer, una simpatica regista che ha inventato 5 anni fa il Toronto Urban Festival, ovvero il TUF, esattamente nelle stesse date del TIF, portando i suoi film muti di un minuto ciascuno nelle stazioni del metro. Ogni 10 minuti il TUF proietta in tutte le stazioni i suoi film su one stop screen, mentre nella film zone screen non ci sono interruzioni. All'inaugurazione del Toronto International Film Festival abbiamo incontrato Sharon Switzer, direttrice del TUF, che ci ha detto di aver ricevuto per questa quinta edizione più di 370 lavori di 32 paesi. I film, proiettati da 300 schermi digitali in più di 60 piattaforme in tutta Toronto, sono visti poi da 1.3 milioni di pendolari al giorno. Mica male!